La Regione Marche presenta Geomarche 2032, un'applicazione dedicata alle infrastrutture che interessano il territorio regionale e che permetterà a cittadini e addetti ai lavori di poter avere tutti i cantieri delle Marche a portata di smartphone. Si tratta dunque di uno strumento tecnologico che mira tanto all'aspetto informativo quanto a quello lavorativo. Innanzitutto trasparenza, chiarezza e capacità di informazione e coinvolgimento perché grandi infrastrutture presuppongono anche la compartecipazione dell'opinione pubblica e la consapevolezza di quello che si sta realizzando nella nostra Regione. La nostra è una Regione che non è abituata a pensare alle infrastrutture e oggi che ci sono tante opportunità e ci saranno fra poco veramente tanti cantieri è giusto che la comunità sia consapevole e partecipi attivamente insieme agli enti locali a questo processo di rinnovamento e anche di potenziamento del nostro territorio. È uno strumento di democrazia digitale che porta sul telefonino di ogni cittadino marchigiano il piano strategico dell'infrastruttura e Marche 2032. Quindi è uno strumento molto potente da un punto di vista comunicativo perché tutti i cittadini marchigiani sanno e sapranno quello che è accaduto e sta accadendo nelle Marche. Oltre 1270 cantieri che possono essere monitorati sia quelli realizzati direttamente dalla Regione che quelli realizzati dagli enti locali, province e comuni con partecipazione e contributo diretto della Regione e nonché altri interventi finanziati da grandi società di Stato, pensiamo a Ferrovia o ad Anas. E poi uno strumento particolarmente utile per tutti i comuni dal nord al sud della Regione per le professioni, penso all'ordine degli archidetti, ai nostri geometri, all'ordine degli ingegneri perché trovano una cartografia dettagliata di tutta la nostra Regione sulla quale potranno lavorare. Ovviamente sul web si trovano anche altri strumenti, ma strumenti sui quali non si può lavorare. Su questi si potrà lavorare e ad esempio nel prossimo futuro porsi in un qualsiasi punto del nostro territorio marchigiano, ad esempio in cima ad un campanile, come punto di osservazione vedere quello che accade intorno proprio entrando in Geo Marche 20 e 32. Questo sarà particolarmente utile perché ogni trasformazione urbanistica del territorio potrà essere valutata in anticipo anche da un punto di osservazione in qualsiasi parte del territorio marchigiano. Nel nostro telefonino, con un semplice colpo dato con le nostre dita, potremo vedere come una città, un quartiere, un territorio, una campagna si è trasformata nel tempo. E questo strumento di democrazia digitale è così avanti a così tante potenzialità che alcune altre Regioni sono interessate ad acquisire la nostra esperienza proprio sul dato comunicativo.